La settimana perfetta è quella che ha vissuto Matteo Fago, numero 3 del tabellone, al torneo di Villanova di Bagna Cavallo, un Open dotato di un monte premi da 5.000 euro più ospitalità, dove si è imposto a sorpresa contro la testa di serie numero 1 Pietro Licciardi per 6-0-6-3, al termine di un incontro a senso unico. Il portacolori del Parioli Roma ha infatti dominato grazie ad un tennis solido che gli ha permesso di chiudere molti punti senza attendere l'errore dell'avversario, comunque soprattutto nel primo set non ha suo agio nel contrastare il gioco del vincitore. Già in semifinale Fago aveva peraltro dato spettacolo, eliminando a testa di serie numero 2 Filippo Leonardi con un doppio 6-2, mentre Licciardi si era imposto con identico punteggio sul numero 5 della Tommasina. E dire che Fago neppure doveva giocarlo questo torneo, avendo chiamato gli organizzatori a tabellone compilato. Poi, come per magia, un ritiro gli ha permesso di raggiungere Villanova di Bagna Cavallo e dare il via al suo sogno. Sì, è successa una cosa unica, che non mi era mai capitato, perché ho chiamato il direttore del torneo, Egno, che ringrazio tra l'altro, ma ero in ritardo, quindi non ho fatto in tempo di iscrivermi. Poi, grazie a una defaianza di un giocatore, sono riuscito ad entrare nel tabellone e adesso sono qua a festeggiare la vittoria. Grazie. 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 Quasi. Grazie a tutti